E' intervenuta la polizia questa mattina in un istituto scolastico del Bassanese dopo la richiesta d'aiuto partita da alcune insegnanti. Tre ragazzine avrebbero fatto uso di alcolici a ridosso di un'assemblea di classe, uno spazio autogestito che le ragazzine avrebbero usato per ingerire una quantità smodata di alcolici che avevano travasato in alcune bottiglie di bibite zuccherate. Dopo che le tre si sono sentite male, la scuola ha avvertito le famiglie ed ha richiesto l'intervento dell'ambulanza. Ora rischiano la sospensione. I vertici dell'istituto che hanno seguito da vicino quel che è successo parlano di fiducia tradita da parte delle studentesse e di provvedimenti che saranno presi nelle prossime ore al termine dei necessari accertamenti.